Buon lunedì ragazzi, iniziamo ad aprire questo nuovo pacco, questo arriva direttamente da Palermo, l'azienda si chiama Spizio Siculo Allora, andiamo a vedere che cosa mi ha mandato Allora, questo di qua è il loro marchio, Spizio Siculo, e questo è il loro sito, ucarrettosiciliano.com Allora, loro vendono tutte queste marmellate, conserve, ma di ogni tipo, di ogni genere che dopo vi farò vedere Allora, iniziamo a vedere Allora, innanzitutto abbiamo qui la crema di pistacchio Ovviamente è un po' mancare in Sicilia il pistacchio Poi abbiamo qui la marmellata di mandarino Poi abbiamo la confettura extra di mojito Non penso che voi l'avete mai assaggiata una confettura così, cioè da provare assolutamente E poi abbiamo questo di qua, che è il pesto siciliano di pistacchio Infine abbiamo questa bottiglia d'olio, che proviene ed è stata imbottigliata sempre da loro, da Palermo Grazie per questi prodotti Grazie Grazie